Comunque c'è lì l'Hesion è alto L'Hesion è lì C'è uno sotto, c'è uno sotto Ok è morto anche l'Hesion, si l'ho ferito Jäger è sotto Mettete contesa, non c'è nessuno dentro Erano due e li uccisi entrambi Tu stai sopra in realtà Eh? 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 What? Cosa? No regà, non ha sparato, ne so sicuro Non ha sparato pure io Poi col secondo puffo ne ho mandato uno in ferimento E quindi ne ho fatti due praticamente Vabbè, scialla No Si si Stava uno qua, quello che stava qua mi son fatto Una domanda, me lo vedi proleague Seba C'è solamente la testa proprio lì Ok Vabbè, non mi ha messo l'uniforme Vabbè scialla poi la metto Sono passata lì Siamo a 10 secondi Mancano 5 secondi Mh Il nemico ha individuato il contestore Mi metto una barricata dentro Poi vado sotto, va Però cavolo, qua mi serviva il completo nero, cavolo Guaito che mi serve una madre Ricarico, coprite Arriva Seba Eh perché si vede meno il nero C'è il bianco così sporco Sensore cardiaco in uso C'è la sto qua io tanto Bella Tony Qua l'ho fatto uno spottino alquanto particolare Eccolo, eccolo, eccolo Porco due Dove? In fondo qui Ce l'ho in fondo N'è mai morta No, non è ferimento Si addi Ma muore Non Muore Uno di vita Regà qua lanciano granade, buffi Ehm Vabbè Il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona La tua posizione è stata compromessa Oh, che twitch Twitch one shot kitchen 10 HP Oh my god Bella, che cazzo di kill Lei ha distrutto quello che t'ha distrutto prima Ok, twitch one shot E l'altro non lo so Eccola twitch, sta qui Twitch sotto Tutte e due sotto Ash e l'altra Ash bathroom Ash bathroom Out of bathroom Out of bathroom Stairs 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 Left stairs Eccolo la Bella Bravo twitch Cioè, lision GG per lision Eppure per flix Eppure per flix Non moriva manco questo Comunque Seba era sca... Fate un tempo No, regà Non possiamo ruotere Vabbè, dalla fine... In realtà si I... I... Contenitore di più rischio individuato Raggiungetelo Vabbè, ma Raul ha fatto... Ha dato prima Va bene così Deve da pure il muro E' aperto lì, regà E' aperto lì, regà Vaffanculo Seba fai bandit Seba fai bandit Se arriesti Non ci stanno Esce pulse Mio, mio, mio Sto rompendo, regà Corri fix No, regà Non ci credo Mentre rompevo Mentre rompevo Però ho rotto almeno Che arrivo anch'io, va? Si, ho rotto E' uscito, regà L'avevo sentito Che rompeva la play Ma basta Ma uno è sotto, serio? Se uno è sotto Occhio a smoke, regà Bendite sotto, regà Bendite sotto Perché sto vedendo già, regà Quindi ora ci stanno Jäger Appunto Jäger Che non si stunna mai nella vita Quello di prima Bandit a scale, regà Si sa che se lo fa jackal Morto bandit Tenete il contenitore Dai, dai Rondead per il cazzo Guarda che schifo che fa quello E' entrato Dietro, dietro No, no Oh, madonna Oh, madonna Oh, madonna Oh, madonna Che round Cardiopalmo Ma, madonna Ma, madonna Già stava di Guardate come abbiamo perso Già lo stava di Quattro secondi di animazione Così evita la cosa L'animazione che le butta e allontana la mano E risparmi tipo due centesimi di secondo E' vero, e' vero Sì, lo spinato Piazzato Ci sarà da divertirsi Devo cambiare il caricatore Sì, carica di buona Ancora cinque secondi Il nemico non ha trovato il contenitore Cercheranno di localizzarlo durante l'assalto Il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona Ti hanno visto Dov'è che ci sta la porta? Bella Raul Oh, ma che colpi di Di blasted Trapassano il castle, regà Della... Della... Della pistola Il nemico ha trovato il contenitore di biorischio No, vabbè, no, 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 dai Mi hanno sparato in due contemporaneamente Il nemico sta difendendo il contenitore di biorischio Eh, imbe, si muore Impedite al nemico di prendere il contenitore Uno è entrato nella zona di drago Blackboard Sta proprio dentro Sta proprio dentro Combati! Missione fallita Vabbè Wot raga Wot f no vabbè rega non c'è se crede ma l'ho con una piccola oh perchè tanto mi ammazzano ogni volta ma con bb ah non mi dici non mi dici raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo no dico pensavo che bend dovesse il c4 ma in realtà no mamma mia per poco ci morivo eh ci ha sommato meno male vendita aveva il c4 confermo e c'ha pure il pompa eh vendita c'ha il pompa e ha usato il c4 su di me torbola ma da dove mi indovito non sta sta eccola lì eccola lì 2 c4 andati non ne hanno più bella peccacchia non c'è morta non c'è morta gli ha sparato pure lion che è rimasto il vendita col pompa attivazione drone può essere sopra l'obiettivo è vuoto completamente ottenete un sessore marco i cattivi lasciate perdere il contenitore rimane un nemico attività di ammita neutralizzate la minaccia difensioni neutralizzati vittoria per gli attaccanti bella per Raulo dai rega 3 a 2 cazzo 3 a 2 rega dai c'è penso di no eh però può essere penso di no ma può essere difendite la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio perchè devi rimanere per la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio cosa? accettiamo il contenitore di più rischio il mio? si lo farò lo farò è già in programma sto accumulando le clip per arrivare sui 10 minuti circa ma sai che dovresti fare? no c'è un canale che sicuro va bene dovresti tipo raccogliere delle clip da qualche community e metterle su youtube c'è tipo quelli di forza che ce lo fanno non fanno un botte di visualizzazione lo so però esatto non li puoi formalizzare a parte che non mi interessa farlo però che forse ha perchè se monetizzi beh è una porcata però scusatemi no perchè non sono c'era che in obiettivo ce n'è solo uno ma siamo seri? cioè ti puoi accordare con me no devo rientrare io non approfitto delle mie è tutto chiuso no raga no 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 questo qua ha spaccato finestra eh questo qua ha spaccato ehm seba non muore gli vedevo solo la testa stunnata il nemico sta difendendo il contenitore di biorismo e muori però che sfiga oh sensori eliminati missione fallita no è lui mamma mia raga mamma mia raga vabbè non c'è molto mai nella vita ma ok o se no prima sto in camera da letto dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio difendete la stanza il buon nemico ha individuato il contenitore di biorischio 10 secondi 10 secondi lancia rapido il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio anche la mia子 stanzo da un mercato ricarico No, Tony Crack, che fai? No, no, no. No, regà, è stupido, cazzo. Grande round. Regà, perché ti devi gettare con la pistola? Perché? Non c'è più il C4. Ma c'è il pompa questo, tu frost, regà. Non lo so, sinceramente, non ci ho fatto caso. Io li ho curati tutte e due, regà, sono un bravo dottor. No, non ti ho preso, vi hai visto. Eh, io ho preso un tizio. Si è morto, Raul. Non ti ho preso. Non ti ho preso. Cerco di stare io a ufficio. Se riesco. Chi è? Chi è? Non lo so. Carroche, tutte e due. Arrivo. Nuovo caricatore. Nuovo caricatore. Dai, vuol cambiare caricatore. Bella. Che cosa? Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Pompati più hot. Alle, alle... È importantissimo quel pompa, eh. Forse è uno dei più forti. All'inizio... All'inizio... All'inizio scomperiamo... Nettrici perché... Da lontano, ma avvicino... Da medi distante... Madonna. Eh, la sta a spostare, la sta a spostare. Attenti Sponky. Raggiungetelo. Vediamo se l'ha spostata la torretta. No, infatti l'ha spostata, non è più lì. Eh. Si è rimasto male, eh? Stronzo. Eh, sta a cacchiatto. Un nuovo caricatore. Io però adesso ho paura di salir da qua, regà. Io devo andare sotto, vede, subito tipo E ne sento uno sotto Perché sotto si doveva venire furia C'è Jäger sotto Drona bene, no, se non facciamo vanno Dalla dietro sta Vabbè vengo qua No, 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 no Eh, quello vedi che sono un coglione Non riesco a ucciderlo No, 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 no No, vabbè, no Due sotto Io per verità da una manatea Alta me l'ho fatta ammazzare come un pirla Vigil riuscito sta fatta Oh, madonna il Lord Ma che fa il Lord? Nell'obiettivo Mi carico il vostro Mi posiziono Zofia se va da sotto fa la meglio cosa Con il Lord Buoni raga che zoro Mo questo si fanno a kill Sony da, mira Cheater No raga Ma che falle sta arma di merda di Vigiloo Mamma mia Guarda qua C'è un po' di merda che dobbiamo verte così Non partite Oh Però è troppo scialtino Ma Sai cos'è? Il touch on call è un problema Un operatore alleato è rimasto Ok Io ho cambiato un attimo visuale Ho visto che gli si sfranceva la capoccia Anche io Mi sono rimasto male C'è un po' di merda Gesù Cristo morto Vabbè Unculato dalla madonna Io ho switchato la visuale su Zofia E mi sono visto che c'era il mirino Bandit col pompa Poi niente, è morto Ma non c'è il clero Non c'è Dio Sempre in parità siamo andati Siamo lo stesso universo Sì ma non è che siamo Siamo allo stesso livello Se bacca allora gli dice il culo sbaccato Quelli che hanno iniziato a difesa C'ha dovuto incendere una caccia E tu che fate una fortuna per loro Speriamo che Raul e Cap Quest'altro si fanno le kill A me non mi muoiono Quindi non affidatevi a me Raul mi ha invitato la richiesta D'amicizia Dopo te lo accetto bro La stambia tutta infatti non mette i proste però Metti i proste Sti chassi della mitizia Devo spostare questo Elam In una posizione un po' più tattica No Allora quello che sta scogliando Il drone nemico ha individuato il contenitore di Biorizio Raga non ci gestiamo le kill però Beh infatti Quella per Flix Come servio sto buco Dio mi do Raga C'è uno con Si è glitch raga Si è glitch Sta qua lo scudo Dove c'è uno regalo Quanto fidi c'è uno qui Ho sparato alle spalle ma non ho Ma è barricato non può fare wallbang Mannaggia la shit Mannaggia Alfa non stiamo fermi Si si Occhio Inferite al nemico di prendere il contenitore di Biorizio Pensate ulteriori accessi al contenitore Andate vicino No 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 andate vicino No no che vicino che poi le vado uccide No Bella Andiamo Non c'è questo che voglio dirti Uno va vicino Se toglierlo su L'altro lo uccide Questo guarda Montagna non è vulnerabile Bellissima 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 Mi sta proprio bella Salitore regà 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 Che ultimo round che ho fatto Oddio No Me ne so spenti tre Ah bove Regà ci siamo fatti Il clutch Quattro contro due E già stava di Vabbè Bella Vabbè Ari ciao YouTube Ahahahah Hai Sì